Aradori, Manu, ancora Pietro, arriva al blocco di Martin Lennel, palla verso il Martino, Martino verso Pietro, 4 secondi per andare al tiro, va al tiro a 3 punti, Pietro vai, vai Pietro, 79, 78, 73, più 5, 53. Io amo Pietro Aradori, altro tiro libero, siamo a più 5, 10 secondi e 60 centesimi da giocare, il pubblico del forum se ne va, Pietro Aradori mette il secondo tiro libero e noi praticamente abbiamo vinto a Milano. Lengford, Lengford ancora palla, la recupera Jeff Russi a questo punto è ufficiale, vai Jeff, vai Jeff! E questo è il canestro e la ciliegina sulla torta, 84 a 76, T8 che bolletta, pubblico che se ne va a testa bassa ragazzi, ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto a Milano, abbiamo vinto una partita fondamentale. Adesso vediamo se riusciamo a portare ai nostri microfoni Pietro Aradori, ragazzi sto godendo come in maniera incredibile fischi per Scariolo, fischi per la squadra di Milano. Questa è la cosa più bella che ci possa essere, vi spiace per Scariolo, vi piace per la squadra di Milano però ragazzi questa sera la soddisfazione di aver vinto a Milano.